Sono magnifici, ti piacciono? Di più e di più e di più, dopo che sono ritornata da me non sono più venuta perché è tutto chiuso, quindi febbraio, marzo, aprile, marzo, cioè credevo di morire. Ma io che sono i clienti fantastici, che anche se andate dalla stafata del mondo non vi fate toccare? No, 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 mi sono toccata io per la verità. E va bene, ma ci sta, ci sta. No, no, ci sta, ero piccolore, non bianco e rosso e verde, ma... Però guarda come sono belli, guarda come sono soffici questi capelli, guarda come si muove. Mi sono entrata che sembravo la saggina. La saggina, la saggina. Non tutti sanno che cos'è la saggina, ma io stai quelle scopi di pane. Ma io le mie clienti che li adoro, li adoro. Direi, direi, e guarda che taglio. Bellissimo. Questo è il cuovo colore, il luxone, che vanno in migliori tutti i casini che fate voi a casa, purtroppo. Il colore vivo, la speranza, la nucia intensa, la sanità. No, la salute, la vita, la speranza.